Ancora in crisi di risultati il miseria e nobiltà che viene sconfitto 2-5 dall'Omnicas al Palaferdo dopo un match in cui se non altro si è rivista la solita grinta, meritato il successo dei flagrei, ordinati e sempre molto lucidi in mezzo al campo. L'avvio è divertente con il vantaggio quasi immediato dei padroni di casa grazie a Massimo D'Angelo che vuole in contropiede serve Dufano per il facile vantaggio del numero 10. Quando tutto sembra girare per il meglio, un brutto rimpalo dal quale esce sconfitto Antropoli regala la palla del Parigi a Torelli che è cinico ed in sacca un incolpevole di Vico. Il Maddaloni allora torna in attacco ritrovando il vantaggio con la stoccata da fuori di Gigi Verdicchio che fa secco l'estremo difensore avversario. Di qui in avanti tanto equilibrio sul parquet con D'Angelo che replica al tiro di Fierro. A scuotere la partita ci pensa Albano che fa gridare al gol con un missile da lunga distanza. È il turno di Loastes ma Di Vico è attento e risponde presente anche sul tentativo di Visconti. Il numero 13 della Virtus non ci sta e superato D'Angelo in dribbling ripropone il destro che con la complicità di Di Vico vale il 2-2. Pareggio agguantato proprio alla fine della prima frazione, certamente meritato per quello che si è visto in mezzo al campo nella prima mezz'ora. Frizzante anche l'inizio del secondo tempo con sprazzi di bel gioco ed ottime parate da ambedure parti, poi però il ritmo si abbassa e di troppi errori non giovano allo spettacolo. Il missile numero 2 del match di Carmine Albano stavolta è sventato dal portiere maddalonese ma le maggiori rotazioni offerte dalla panchina ospite si fanno sentire. Così il maddaloni cala e ad approfittarne è Iannone assistito da Visconti per il vantaggio Flegreo. Senza molte idee in miseria e nobiltà si getta l'attacco, D'Angelo ha la possibilità di segnare ma Ruocco è sempre pronto. Nemmeno le giocate di Verdicchio e D'Angelo producono qualche pericolo concreto e l'Omnicas chiude i giochi con un paio di ripartenze fulminee. Brunelli fa tutto bene e diposita in rete il 4-2 ospite, dall'altro lato l'assalto disperato di Tufano è chiuso dall'intervento miracoloso di Ruocco. Quando ormai si attende solo il triplice fischio Torelli sfugge via da Antropoli e spiazza di Vigo per il definitivo 5-2.